Sono le insidie della campagna acquisti di gennaio, chi arriva e deve sistemare il proprio organico e arriva a gennaio a capire che il proprio organico è da sistemare spesso si trova in difficoltà e le difficoltà arrivano anche dalle squadre rivali che vogliono assolutamente accappararsi i pezzi migliori e se Flocari può essere considerato uno dei pezzi migliori che ci sono sul mercato attualmente per quel che riguarda il ruolo di punta avanzata, ecco che sono in tanti a mettersi sulle piste di questo giocatore. La lotta sembrava ormai decisa, mancava solo la firma, doveva arrivare ieri sera, era slittata per un non nulla, doveva in realtà arrivare nel pomeriggio, poi la sera non se ne è fatto nulla e adesso arriva la notizia, Flocari non arriva. Perché pare? Perché il terreno del Oroger Stadium non è gradito a lui, in pratica il sintetico e allora potrebbe andare alla Spal che invece offre due anni e mezzo di contratto e offre molto ma molto di più. E così il Cesena rischia di rimanere al palo e purtroppo i giorni passano e il Cesena ha sempre bisogno.